Buongiorno cari fratelli musulman e cari sorelle musulmane. La mia testimonianza a proposito di Gesù ha come obiettivo di farvi gustare l'amore di Gesù. Quando ho deciso di dare la mia vita a Gesù, la mia vita ha cambiato. Ogni volta che leggo la Bibbia, sento una gran serenità e una pace che sorpassa ogni intendimento. La saggezza che ho trovato nel libro di Salamone è veramente imparagonabile. Evidemment con Gesù sono diventata una persona migliore e grazie al sostegno costante di Gesù ho cominciato ad affrontare la vita d'una maniera impeccabile. Anche le difficoltà e le prove della vita con Gesù cominciò ad affrontarle con serenità e con grande saggezza. Vi prego cari fratelli e cari sorelle musulmane, non vi private di conoscere la persona di Gesù. Sapendo che nel Corano Gesù è menzionato più volte, facendo miracoli di guarigione, anche oggi è operativo come ieri. Che Dio vi benedica. Grazie. 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 Grazie.